Se non prendiamo il palo... Ciao, what are you? Buongiorno 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 il cazzo Guidami che se no cado Vai là vai E' Daniele Nadei Molto piacere Cosa fai nella vita a parte il portaborse che la so danno? Vi consiglio ecco di non intraprendere mai la strada del giornalista Perché potreste ritrovarvi personaggi del genere Che vi fanno i video alle sette e mezza del mattino Ma sono le otto Ah boh, siamo là Stiamo andando al molo beverello a prendere Ugane Laura Per andare a Capri Ti piace andare a Capri? No, no, volevo sparagnarmelo Riprenditi da solo perché io adesso devo rispondere al telefono Siamo per assistere a una telefonata in diretta ragazzi Ragazzo sta su telefono? Chi è? Pronto? Come ti sembra Capri? Per il momento carina Pittoresca, vario-pinta Molto caotica Speriamo bene dai Già stiamo soffrendo il caldo Non promette bene Speriamo bene 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo me questo è un traghetto, non è la riscata. No, questa è una barca a reni. Non c'è manco la vela. Spremmo che non affandiamo. Io non ho mai sentito scritto da GL qualcosa. Non si chiama. Ma che ci fai i biglietti? C'era il tuo? Sì. Mi ha perso il biglietto. L'hai visto? Ragazzi abbiamo sbagliato biglietti, abbiamo sbagliato bacca. Questo non ti è andato o ritorno? No, no, questo non è andato. Questi sono quelli all'andata. No. Bacca, non vedo tutti i cosi, non vedo tutti. Voglio sottolineare che mi ha dato 20 euro. E questa è una bottiglietta. L'acqua mi ha ridato un euro di questo. Non è vero, potete dati il resto. Non è vero, voleva l'anero, voleva. Sì, ti pensavo che eri un turista svedese. Perché voglio caccia di torno. Ce lo voleva fare di mancia? Mi sai che a Budaverse se ti dai un parquet di strano o qualcosa, di lasciare sempre la mancia, se no sei un cafone. Pur in Italia. No, in Italia non è obbligatorio. A Budaverse sì. Ci vende la schiena con il mio ginocchio. Non lo può fare con una carocchia. Noi facciamo il viaggio di ritardo. Aspetta che parte questo cosa. Se parte può essere quello che sta a mattare. Cap è carina, il problema è che... Ho questi. Dicevo, è carina capo, il problema è che una granita sta a 200 euro. Nero 80 il biglietto per fare tanti metri. 50? No, neanche pure. Neanche 50 metri. Una discesa. 10 euro 80, compro un deline, sono dei preti. A voi è stato proprio buono, ciao. Salute. Ciao. 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 Grazie a tutti.